250 associazioni, 700 negozi, 100 attività commerciali online, 120.000 card, 6 regioni coinvolte. Sono i numeri del circuito solidale Lococard a cui è aderito anche il Comune di Campobasso. Obiettivo sostenere le attività delle associazioni che operano sul territorio e al tempo stesso tentare di rilanciare il settore del commercio. Nella sala consigliare del Comune la presentazione dell'iniziativa. Le finalità del progetto sono quelle di una valenza sociale per fare in modo che questa card possa essere utilizzata sul territorio per degli scopi nobili. Nel nostro caso il Comune di Campobasso ha aderito a questa iniziativa e i proventi di questa card verranno destinati per l'allestimento di un'area verde per i minori. Ci può dire come è allestito questo progetto? Il progetto si fonda essenzialmente su due attori, i negozi e le associazioni. I negozi convenzionati accettano le card delle associazioni e le associazioni hanno una quota a parte dell'incasso al loro favore. In Molise stiamo partendo adesso, in altre regioni d'Italia siamo più che consolidati. Parlo della Puglia, del Veneto, della Calabria, della Sicilia e così via. Assessore, da cosa nasce l'idea di aderire a questo progetto che tra l'altro già va avanti in altre regioni? Sì, appunto perché va avanti in altre regioni, ha avuto un riscontro nettamente positivo e vede il connubio dei tessuti sociali con il microcommercio locale. Quando il Presidente nazionale, insieme alla referente Andonella Viammarino, ci hanno, a me e alla collega Alessandro Salvatore, evidenziato questa possibilità per Campobasso ne abbiamo aderito. Non ha nessun costo per il Comune. Il logo e il padrocino è per valdità, trasparenza e legalità a questo progetto. abbiamo fatto un appello al commercio e fino ad adesso i commercianti che stanno rispondendo. È una maniera per poter mettere in giro un maggior possibilità di acquisto ad un costo minore.